Ciao a tutti, siccome ultimamente non ho avuto fastidio del regino a chi è né niente ho deciso di provare la rincorsa da Mancino, di nuovo che è quella destro-sinistro-destro ero leggermente scordiato, è stata un po' meno perché non sono abituato a farla però non è venuta così male e boh, chissà se in futuro il regino è che continua a non darmi fastidio magari riusciremo anche a cambiarla vi faccio vedere il risultato grazie Grazie per la visione Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate E sabato probabilmente farò un'altra live Sperando di migliorare la qualità Per questo per oggi è tutto Ciao